Ben ritrovati gentili telespettatori ad un'altra edizione del Tg6 dall'Aquila. In apertura una notizia di cronaca, dopo giorni di ricerche è stato purtroppo trovato morto l'anziano scomparso a Paganica. Si era allontanato da casa lo scorso 28 dicembre, lo ricordiamo, tre giorni di ricerche e poi questa mattina la scoperta di un cacciatore. Dilio Francesco Silveri è morto ed è stato ritrovato nella campagna tra Camarda e Filetto. Sentiamo. È stato ritrovato senza vita Dilio Francesco Silveri, l'83enne di Paganica, scomparso lo scorso 28 dicembre. Questa mattina un cacciatore, nella strada tra Filetto e Camarda, frazioni dell'Aquila, località Ornatina, ha notato il corpo dell'uomo a terra nelle campagne. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco sarà l'autopsia ora a stabilire le cause del decesso, probabilmente un malore, complice anche il freddo di questi giorni. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. L'uomo, lunedì pomeriggio, si era allontanato da casa a Paganica intorno alle 17.30 e non vi ha fatto più rientro. Sono stati familiari a dare subito l'allarme ai Carabinieri. Da un conoscente, Dilio Francesco Silveri, si era fatto lasciare vicino alla sua vecchia abitazione, inagibile, al centro del paese. Tre giorni di ricerche condotte da Vigili del Fuoco, Forestale, Soccorso Alpino e Carabinieri senza esito, estese anche a Castelvecchio Subequeo, paese d'origine dell'anziano, fino a stamattina il tragico epilogo. E ci spostiamo ora in Consiglio regionale perché il bilancio nell'ultimo giorno dell'anno è arrivato. A nottefonda, infatti, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione tra le polemiche del centro-destra e l'assenza del Movimento 5 Stelle. Pochi fondi per istruzione e turismo, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Un esausto Consiglio regionale ha approvato a nottefonda la legge di stabilità, con il sì della maggioranza e il no del centro-destra. Nella lunga maratona, inoltre, intorno alle 5 di questa mattina, è stato licenziato il bilancio di previsione 2016. Ammonta a 7 miliardi e 977 milioni di euro, in totale circa 1 miliardo e 400 milioni di euro in più dell'anno precedente. Sul fronte delle entrate si può contare su un avanzo di amministrazione pari a più di un miliardo e mezzo, Mentre 2 miliardi e 790 milioni di euro arriveranno da tributi e gettiti erariali. 237 milioni di euro da trasferimenti correnti, 71 milioni da entrate extratributarie, 541 milioni da entrate in conto capitale. 1 miliardo e 797 milioni, infine, arriveranno da partite di giro. Per quanto riguarda le spese, invece, tra le più significative spiccano i servizi istituzionali, generali e di gestione, a cui saranno destinati 438 milioni di euro. All'istruzione e al diritto allo studio vanno soli 4 milioni e 600 mila euro, così come Cenerentola e il turismo, che prende solo 3 milioni e 600 mila euro. All'assetto del territorio e all'edilizia abitativa vanno 30 milioni e 195 mila euro, allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente 50 milioni di euro. Trasporti e diritto alla mobilità prendono 217 milioni. Al soccorso civile vanno 16 milioni di euro, alla tutela della salute 2 miliardi e 52 milioni di euro, allo sviluppo economico 13 milioni di euro. Tra gli altri provvedimenti collegati ai documenti contabili ci sono la moratoria all'apertura dei nuovi centri commerciali fino a maggio 2018, la proroga per la sanatoria dei sottotetti e la previsione di servitudi allagamento nei pressi di corsi d'acqua, che istituisce il divieto di qualsiasi tipo di insediamento fino a una distanza di 400 metri dagli argini dei fiumi. Per quanto riguarda l'intesa politica, sempre più vacillante, tra la maggioranza e il centrodestra, si è evitato il ricorso da parte della maggioranza alla cosiddetta legge tagliola, che consente di ridurre drasticamente le proposte delle opposizioni a sole 5 per consigliere, in cambio però di qualche concessione al centrodestra. Ai lavori del Consiglio regionale di fine anno non hanno partecipato i grillini saliti sul Laventino dopo aver occupato gli scranni della Giunta, provocando la reazione rabbiosa del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e per questo colpiti da censura dell'ufficio di Presidenza. Ed arrivano comunque dalla Regione i fondi per gli impianti sportivi. Oltre 5 milioni di euro sono stati infatti stanziati per 27 comuni abruzzesi come contributi per l'impiantistica sportiva. Si tratta di fondi provenienti dalla dotazione dell'ex piano del Mezzogiorno e saranno dati ai comuni per la ristrutturazione messa a norma degli impianti sportivi. Tra i comuni dell'Aquilano che hanno ricevuto maggiori finanziamenti c'è quello di Torni in Parte che ha ottenuto 524 mila euro per il campo sportivo. Poi ci sono una serie di comuni che riceveranno tra gli 80 mila e i 150 mila euro destinati ad esempio al campo sportivo di Raiano, così come all'area turistica sportiva di Carapelle Calvisio, al campo polivalente di Ortucchio, allo stadio comunale di Castel di Sangro, alla struttura sportiva di Celano, all'impianto di Luco De Marsi, l'impianto sportivo di Anversa degli Abruzzi, il campo comunale di Scoppito e poi ancora il campo sportivo di Rocca di Cambio e il campo sportivo di Magliano De Marsi. Andiamo ora al comune dell'Aquila perché questo fine anno ha portato anche il rinnovo del contratto dei precari, infatti altri due mesi, altri due mesi di ossigeno per i 56 dipendenti a tempo determinato del comune dell'Aquila che potranno adunque tornare a lavorare. Il comune anticipa i fondi in attesa di quelli del Cipe che consentiranno poi una proroga più lunga. Sentiamo. Sarà una buona fine e un buon principio per i precari del comune dell'Aquila. La giunta comunale infatti ha finalmente varato il rinnovo per i 56 lavoratori con contratti scaduti a tempo determinato che lo scorso settembre non erano stati prorogati. Una possibilità che si è aperta grazie a fondi giunti con la legge di stabilità appena approvata. Un rinnovo che poi sarà ampliato con le nuove disponibilità di fondi Cipe. Una battaglia che i lavoratori conducevano ormai da mesi e che ha provocato malumori e polemiche scaturite poi con l'occupazione simbolica di Palazzo Fibioni, sede del comune, da parte dei lavoratori giorno e notte. Due mesi di rinnovo ha annunciato l'assessore Betti Leone grazie a fondi anticipati, ha detto, dal comune dell'Aquila in attesa di quelli Cipe. Un rinnovo che permetterà al personale di rientrare in comune a svolgere mansioni in settori molto importanti. La giunta comunale ha disposto anche la proroga per gennaio degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza il 31 dicembre appunto. Una buona notizia decisamente per i 56 precari, soprattutto perché c'era stata un'interruzione in alcuni servizi e alcune persone addirittura avevano minacciato di denunciare l'ente comunale. E rimaniamo sempre al comune dove sono state aperte le buste per la realizzazione dell'impianto delle nuove fontari ed è risultata vincitrice la ditta Leitner che sarà impegnata a predisporre il nuovo progetto secondo le prescrizioni via della regione. Il risultato importante è stato sottolineato dallo stesso ente comunale che ha permesso di salvare anche il contributo FAS per la realizzazione dell'opera. E il comune dell'Aquila inoltre ha sottoscritto anche un altro importante accordo con l'azienda Accord Fenix, l'accordo preliminare di vendita del cosiddetto modulo 1 dello stabilimento ex Italtel. Entro le prossime settimane infatti saranno perfezionati tutti gli atti che permetteranno ad Accord Fenix di partire immediatamente con i lavori per arrivare rapidamente all'apertura dello stabilimento con le prime assunzioni che a regime porteranno al riassorbimento di tutti i lavoratori dell'ex polo elettronico. E ci spostiamo ora all'assessorato all'ambiente del comune dell'Aquila perché l'assessore interviene dopo il clamore suscitato dalle notizie sull'inquinamento cittadino. Dei rilevamenti effettuati dall'Arte disponibili fino al 22 dicembre, si legge in una nota dell'assessore, risulta che nel 2015 ci sono superamenti dei limiti di PM10 solo per nove giorni. L'assessore all'ambiente Maurizio Capri sottolinea che l'Aquila è tra le città capoluogo d'Abruzzo che ha la qualità d'aria migliore e non solo in termini di PM10 ma dal rapporto di Lega Ambiente 2014 risulta che l'Aquila è anche al dodicesimo posto in Italia su un 90 città capoluogo, primo in Abruzzo per la qualità appunto dell'aria. E a proposito di qualità dell'aria ci spostiamo a Monte Reale dove la qualità dell'aria è messa a repentaglio dall'amianto, infatti entro l'anno nuovo con 660 mila euro sarà bonificato il sito di Pedicolle di Monte Reale, ricordiamo comune dell'Aquilano, dove nella fornace dismessa c'è una carica forte di amianto. L'accordo è frutto di un lavoro bipartisan e arriva dalla regione Abruzzo, vediamo. Entro il 2016 saranno reperiti 600 mila euro fondi per bonificare il sito di Pedicolle di Monte Reale dove è situato un ex fornace con alta concentrazione di amianto. L'impegno è stato preso direttamente dal presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso che ha anche sottolineato che la cifra stimata potrebbe rivelarsi insufficiente assumendo perciò l'ulteriore impegno di individuare gli eventuali fondi aggiuntivi necessari alla bonifica. L'iniziativa che ha portato a questo impegno di D'Alfonso nasce da un accordo tra il consigliere di Forza Italia Emilio Iampieri e il consigliere del Partito Democratico Pierpaolo Petrucci. Sul richiesta di Pietrucci Iampieri ha ritirato un emendamento sul tema in cambio della formale presa in carico del problema direttamente da Luciano D'Alfonso. Iampieri, nell'esprimere soddisfazione ha assicurato che sarà sua premura continuare a vigilare affinché dall'intervento venga realizzato con la tempestività e la determinazione che richiede quella che è l'emergenza ambientale prioritaria per l'Abruzzo interno. E ci spostiamo ora nella Marsica dove arrivano fondi per ristrutturare gli impianti idrici. Un restyling completo infatti è previsto per gli impianti della zona appartenenti al CAM, il Consorzio Acquedottistico Marsicano. Sentiamo. La rigenerazione dei depuratori d'acqua situati nel territorio marsicano avverrà in 252 giorni con un intervento complessivo di 12 milioni e 800 mila euro provenienti dalla regione Abruzzo. E' questo l'obiettivo per il 2016 del Consorzio Acquedottistico Marsicano cosiddetto CAM. Il progetto è stato illustrato dall'amministratore delegato del CAM e dal consigliere alla gestione. I depuratori da rigenerare sono quelli di Avezzano, Trasacco, Tagliacozzo, Carsoli, Celano e Capistrello mentre quelli di Gioia de Marsi, Lecce de Marsi e Ortucchio sono da potenziare. Un altro lavoro di adeguamento riguarderà il completamento della rete fognaria della località di Camporotondo grazie alla copertura di 400 mila euro. Per quanto riguarda i depuratori di Scurcola Marsicana e Luco de Marsi sono stati inseriti in un finanziamento stanziato dal governo il cosiddetto Sblocca Italia per un totale di 2 milioni di euro di fondi. E torniamo all'Aquila per parlare di Capodanno l'ultimo dell'anno nello specifico per questo 31 dicembre all'Aquila si torna a festeggiare in Piazza Duomo ospiti saranno i metro ma anche il rapper Romano Erpiotta e a mezzanotte il brindisi sarà offerto a tutti gli ospiti dal Comune dell'Aquila. Sentiamo Daniela Rosone. Si torna al Capodanno in Piazza all'Aquila per festeggiare l'arrivo del nuovo anno Comune e Associazione Vulcano hanno messo in piedi un cartellone che vedrà l'esibizione sul palco di Piazza Duomo di diversi artisti italiani. In apertura ci saranno i padroni di casa gli Aquilani Metro di recente concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Dopo il brindisi di mezzanotte si esibirà l'Aiver Piotta che arriva al capoluogo di regione dopo il suo tour in giro per la penisola. La serata terminerà con il DJ set di Inobet. Gli spettacoli saranno gratuiti l'inizio è previsto per le ore 23. E questo sarà un Capodanno illuminato per l'Aquila per la notte dell'ultimo dell'anno infatti saranno illuminate le mura cittadine una prova luci simbolica nel tratto che sovrasta Viale della Croce Rossa in attesa della sistemazione completa. Il primo gennaio invece vedrà il tradizionale appuntamento con l'orchestra da camera aquilana e il concerto di Capodanno. L'orchestra da camera è diretta dal maestro Carmine Gaudieri e si esibirà alle 11.30 nell'auditorium del Parco del Castello. Bene, era questa la nostra ultima notizia. A me non rimane che ringraziarvi dell'attenzione ma prima di congedarci in questo ultimo giorno dell'anno doverosamente devo ringraziare a nome di tutta la redazione dell'Aquila il nostro editore, il direttore di TV6 ed anche tutti i colleghi giornalisti e tecnici che ci consentono giornalmente di andare in onda con i nostri programmi. Naturalmente ringrazio anche il nostro gentilissimo pubblico che ci sta sostenendo dall'apertura della redazione dell'Aquila. E noi ci rivediamo il prossimo 2 gennaio, sabato ma vi ricordo che comunque nella giornata di domani primo giorno del 2016 ci sarà comunque nelle fasce orarie dedicate alla redazione dell'Aquila ci saranno comunque dei prodotti di approfondimento sul territorio quindi continuate a seguire TV6 anche il giorno di Capodanno. Dunque arrivederci a tutti e al nuovo anno e tanti auguri e felicità per il 2016. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.